Ma ho sempre detto la stessa cosa da anni. Io sono per rendere più progressivo l'Imo, per fare quindi di quell'imposta patrimoniale un'imposta più giusta, e cioè che faccia pagare alle grandi richieste immobiliari. È chiaro che si risposta? Non sono per mettere diciamo delle patrimoniali che riguardano invece la parte non immobiliare, perché su quello io penso che il nostro problema sia la tracciabilità, far emergere la ricchezza finanziaria per poterla fare. Vendola sarà d'accordo? Penso proprio di sì.